Buonasera a tutti, solo per darvi il benvenuto a nome delle suore, figlie di Gesù e della scuola che stasera ospita molto volentieri questo incontro proposto dalla Casa del Menograno e siamo contenti di essere qui, di ascoltare quello che la relatrice avrà da presentarci e non aggiungo altro se non il piacere di avervi e che sabato 21 ci sarà l'open day della scuola dell'infanzia. Grazie. Buonasera a tutti. Abbiamo scelto un canto stasera per introdurre questo incontro. Prima di leggervi un pezzo di traduzione perché è un canto in francese, volevo dirvi perché ci era venuto in mente di proporlo proprio in quest'occasione. Pensando un po' appunto al tema di questo incontro, stavo pensando il punto non è tanto l'equilibrio o il mancato equilibrio tra lavoro e famiglia, ma quello che interessa a me è essere unita in quello che faccio di fronte a una vita piena che si giostra tra lavoro e famiglia. Cos'è che tiene? Mi sono chiesta cos'è che tiene, come ci si può riuscire senza soccombere? Cos'è che permette l'unità della mia persona e fa sì che appunto non mi spezzetti in mille pezzi, che è in mano in fondo le redini della mia vita e la conduce. Per questo abbiamo scelto questo canto di cui ora leggeranno un pezzo di traduzione. Allora, il canto si intitola Si Jamais Joubli e nel ritornello dice Se mai dimenticassi le notti che ho passato, ricordami chi sono e perché vivo. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi sono, chi mi ero ripromesso di essere. Se mai dimenticassi, ricordami chi è. Buonasera a tutti. Si sente? No? Molto bene? Aspetta. Così? Proviamo. Sono super felice di essere qui di nuovo insieme questa sera per questa serie di incontri che ogni volta ci fanno crescere e ci fanno tornare a casa con punti di vista nuovi con cui riguardare le domande che avevamo e con cui affrontare la quotidianità. questa sera abbiamo qui con noi Elisabetta Buscarini che ringrazio tantissimo per il tempo che ci sta dedicando e per aver sfidato anche le intemperie per essere qui perché a Reggio non è arrivata la neve ma più su sì. Io Elisabetta ti ho sentita alla radio raccontare della tua amicizia con Enzo Piccinini che per chi non lo conoscesse consiglio di rimediare. Leggendo il libro ho fatto tutto per essere felice. Non mi danno una percentuale, ve lo consiglio davvero. Mi ha colpito molto il momento in cui hai raccontato di quando con quattro figli a casa ti è arrivata una proposta di primariato. Tu sei medico e dopo ti prego di raccontarci bene cosa fai. Insomma ti è arrivata la proposta in un momento in cui tra l'altro ricevevi molte critiche perché avevi un lavoro impegnativo e una mamma dovrebbe stare con i figli eccetera eccetera. Mi hanno colpito tante cose. La prima è stata chiaramente la questione lavoro famiglia perché è una domanda grande che ho anch'io tutti i giorni seppure di segno ribaltato rispetto alla tua storia nel senso che tutto il mondo mi dice che devo pensare alla mia realizzazione su tutto e invece io mi interrogo su che cosa questo voglia dire rispetto alla mia vocazione in quanto moglie e madre e sul senso di una vita in cui prevale il lavoro. Su tutto però ho trovato interessanti due punti. Il primo che dal tuo racconto emergeva che tu stavi portando quella domanda con un amico. Cioè raccontavi di una decisione presa in un confronto serio e profondo quando oggi queste cose vengono viste come scelte assolutamente individuali e private. L'altra cosa che mi ha colpito è che tu abbia evidenziato che non ti è arrivata una risposta preconfezionata ma sartoriale e questo mi ha fatto dire che nella tua storia poteva esserci qualcosa anche per me nonostante la domanda potesse sembrare opposta. Questo perché secondo me non c'è una risposta valida in assoluto ed è quello che mi preme sottolineare cioè non siamo qui per una ricetta ma per capire quali sono stati i criteri che ti hanno mosso nella vita cioè come sei stata davanti alle scelte, alle fatiche, ai sensi di colpa se ne hai avuti e poi anche adesso che ti puoi guardare indietro cosa dici delle scelte fatte i tuoi figli cosa hanno detto nel tempo e cioè ripeto che non non credo esista una impostazione valida per tutte le famiglie e anche perché vedo che all'interno della mia stessa famiglia gli equilibri cambiano nel tempo perciò un'esigenza di ieri non è più quella di oggi oppure lo è ma si trasforma però penso che ci siano dei criteri con cui ogni famiglia può fare i conti nel pensare il titolo ad esempio partivamo dalla domanda se tra la famiglia e il lavoro fosse possibile trovare un equilibrio e a me viene sempre da dire no è impossibile perché ci sono troppe variabili i figli che si ammalano, i figli che crescono, il lavoro che cambia e quindi mi viene da dire che forse invece che trovare un equilibrio perfetto nel casino che è la vita e ha più senso avere chiare le priorità cioè avere chiaro che cosa ci muove e quindi ti chiedo a te cosa ti ha mosso nella tua vita di professionista e di moglie e di madre e come hai cercato quell'unità che diceva anche la Lucia all'inizio e poi nel tuo lavoro è più evidente una vocazione, una chiamata a costruire che è per tutti e quindi ti volevo chiedere se pensi che quello che ha mosso te possa valere anche per me, possa valere per tutti e poi ovviamente avrei altre 3.000 domande ma ti lascio parlare e poi ci sarà posto per le domande che vi prego di venire a fare qua e di non fare timidi e... tocca a te grazie ditemi se si sente bene se siete... ok mi chiamo Elisabetta come mi ha presentato molto carinamente Beba grazie di questo invito che mi ha colpito e anche molto commosso devo dire che anche la canzone che avete scelto per introdurre mi commuove tantissimo e capirete magari anche quando racconto perché mi commuove quindi grazie di questo invito, grazie a Suor Sergia per l'ospitalità sono edificata dal vedere questa scuola davvero sono mamma, moglie, sono moglie di nanni che ho portato stasera come notaio, come rischiatutto quindi se dico una stupidaggine lo vedrete alzare la mano cioè il certificatore ufficiale nominato per stasera poi siamo genitori di 4 figli di cui l'ultimo è qui presente stasera di nuovo lui è venuto in realtà più per curiosità perché dice ma chi sono questi che invitano mia madre per sapere come si bilancia il lavoro e la vita di famiglia mi telefonavano a me e in due minuti gliel'avevo detto cioè non è difficile quindi l'ho portato per vedere se valeva la pena o no e poi ho portato anche un'amica perché lei sono sicura che certificherà per me positivamente quindi mi sono garantita il parterre ecco faccio il medico abbiamo, scusa, è particolare molto importante abbiamo cinque nipoti in questo momento faccio il medico dal 1983 e dal 2014 sono il direttore del mio reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Crema e dal 2021 direttore del mio dipartimento che è quello che sta sopra tutti i reparti quindi diciamo che nella carriera di medico ospedaliero ho raggiunto tutto quello che potevo raggiungere ve lo dico perché faccio la cornice a quello che vi racconterò e poi capirete meglio ecco nel corso del racconto perché tutte queste cose si sono un po' concatenate allora devo fare una premessa che è indispensabile tu hai parlato di priorità il basamento della mia vita senza cui la mia vita non starebbe in piedi è cominciato dai miei vent'anni diciamo esattamente si è realizzato tra il 17 agosto del 77 e i primi mesi del 78 ed è quel periodo in cui io considero di essere davvero entrata nella fede davvero di aver risposto alla domanda per chi vivo per chi sono al mondo per chi a chi do la mia vita e a chi la mia vita appartiene quindi quel punto della vita dove prendi non una decisione qualunque ma la decisione per l'esistenza e la mia risposta in quel periodo preciso è stata io voglio Gesù e questa è stata la mia da allora è sempre rimasta la mia priorità assoluta priorità prioritaria che nonostante la montagna di errori che potete benissimo immaginare anche se non mi conoscete è rimasta tale ora se c'è questa priorità quello che nasce subito dopo infatti è nato subito dopo è la domanda ma allora che cosa vuoi fare di me che cosa vuoi che io faccia che cosa sarò io che che vocazione ho che vocazione ho evidentemente come persona e anche compreso che lavoro farò quindi una chiamata vocazionale per me è nata dentro questa priorità date sì questa priorità e questa domanda che avevo il metodo il metodo da allora è stato a crescere chiedere chiedere cioè pregare tanto di giorno di notte in aereo in auto in qualunque situazione piangendo in pace pregando chiedendo a dio e chiedendo agli amici che man mano mi trovavo vicino la compagnia cristiana cioè il sostegno l'aiuto il consiglio che loro mi potevano dare perché questo metodo l'ho sempre considerato vitale e con mio marito è una cosa che abbiamo condiviso tantissimo perché non affermi questo valore questa priorità assoluta che hai scelto cioè dio nella tua vita non lo non lo riesci ad affermare a 20 a 30 40 anni senza un combattimento e questo combattimento non è alla portata delle nostre sole forze quindi questo è quello che ha nel tempo fatto conformare la nostra famiglia e la mia vocazione personale il mio lavoro e tutto quello che sono io pian piano al mio valore prescelto a 20 anni quindi dice padre alto padre aldo trento che è un nostro amico sacerdote che certamente conoscete anche voi che il sì come si ottengono le cose dei rodiglias in ginocchio perché bisogna continuare a pregare diciamo che ci siamo fidanzati a nel 1978 ci siamo fidanzati e è stato subito evidente che questo metodo doveva essere applicato perché ci volevamo molto bene era chiarissimo che volevamo sposarci che avremmo fatto una famiglia ma lui per esempio piccolo particolare in quel periodo si era molto allontanato dalla fede molto allontanato dalla chiesa e quindi questo per me era una domanda molto importante da mettere di nuovo di fronte a dio e chiedendo pregando chiedendo compagnia agli amici l'ho invitato a venire a conoscere la comunità di comunione liberazione diciamo che adesso sono tanti anni che siamo insieme non si è mai pentito di avermi seguito quel giornalino diciamo quindi che da allora tutte le sfide seguenti sono venute una alla volta o a frotte a seconda del periodo diciamo 1983 mi laureo in medicina 1985 ci siamo sposati e i figli come dicevo prima a tavola sono arrivati subito la nostra prima è arrivata 9 mesi e 14 giorni dopo la data del matrimonio che mio suocero commentò più che l'amore poter il digiuno perché insomma è arrivata immediatamente per cui non è che c'è stato tanto tempo per dire la famiglia il lavoro eccetera sono venuti tutti insieme e lì dovevo cominciare a capire una questione molto importante perché io faccio parte della generazione delle baby boomers voi siete i millennials le baby boomers è stata la prima generazione che ha lavorato in massa fuori casa quindi di colpo diciamo una generazione di donne si è trovata a scaravoltare la vita rispetto alla generazione precedente e questo naturalmente non si fa senza morti e feriti se non hai dei punti di riferimento moltissime mie coetanee vedevano nel lavoro tu dicevi prima no devi lavorare assolutamente ecco viene proprio da lì viene proprio dal post 68 dice se lavori vali se fai carriera ok ci siamo se no tutto il resto cosa conta quindi quello che era chiaro per tutte le donne della mia età era esattamente che prima veniva la carriera e poi magari tutto il resto se c'era tempo no quindi io ero circondata da questo contesto molto pressante che capivamo insieme chiaramente che era molto confuso molto cioè assolutamente non corrispondente a quello che noi desideravamo per cui la prima reazione è stata quella di cercare continuamente un insegnamento su questo un conforto un aiuto un consiglio dalla chiesa dalla compagnia della chiesa che vuol dire sicuramente i sacramenti c'è qualcuno che ha detto il mio matrimonio si è salvato di eucarestia in eucarestia confermo ma viva la comunità presente di compagnia la nostra famiglia che ci consigliasse di momento in momento e che convertisse possibilmente giorno dopo giorno il mio amore e il mio attaccamento al lavoro perché il mio lavoro mi piaceva tantissimo ed ero molto appassionata ma come diceva giustamente lei prima cena il pericolo che diventasse tutto amore per il lavoro tutto appassionato al lavoro e dimenticasse tutto il resto esisteva invece quello che desideravamo è che il lavoro diventasse un servizio al tutto compresa la mia famiglia quindi questo mi è costato tantissima fatica nei primi vent'anni del mio lavoro non avevo dei modelli femminili convincenti non sapevo chi guardare per questo di come si può conciliare la vita familiare con il lavoro intanto i bambini aumentavano e inoltre appunto a condire tutta questa cosa c'erano i bellissimi commenti da cui ero circondata giornalmente molto simpatici benevoli tipo ai bambini piccoli e te ne pentirai la pagherai non si fanno queste scelte senza pagare delle conseguenze eccetera eccetera e tra l'altro quello che mi faceva particolarmente male è che questi commenti venivano quasi in prevalenza dal mondo cattolico perché era allora molto conservatore cioè ben anche forse diverso da adesso ma comunque era molto stretto molto come esisteva solo la categoria che la donna deve fare la mamma punto e stop quindi quando diciamo dopo 15 anni circa di lavoro mi son trovata che avevo l'occasione di tentare il concorso di cui vi parlava Benedetta prima era avevo i titoli per farlo era un concorso per direttore e ci siamo posti il quesito cioè lo devo fare non lo devo fare devo stare su scelte più conservative che ci consentano di più una vita familiare eccetera avevo un'incertezza terribile non ero confortata da qualcuno in particolare quindi ho dovuto per forza anche chiedere consiglio a chi le persone di cui mi fidavo a chi mi faceva direzione eccetera e uno di queste persone che mi era un punto di riferimento molto forte era Enzo Piccinini e quindi andai da lui a chi gli chiesi proprio un colloquio eravamo su un viale di salso maggiore dopo un congresso perché fermo non lo potevi tenere non è che ti potevi sedere vicino a un tavolo e dire Enzo parliamo si è camminato avanti e indietro avanti e indietro e gli spiegavo gli ho spiegato tutto gli ho detto è antecedente i miei titoli perché lo devo fare perché non lo devo fare insomma lui mi ha ascoltato per ascoltato da dire tutto perché si ferma di scatto e mi fa ma certo che lo devi fare ma certo dice perché lo devi fare prima di tutto per i doni per rispetto ai doni che hai tu ma poi scusami devi pensare agli ebrei che gli ho fatto due occhi così dico come gli ebrei cosa c'entrano gli ebrei ma certo dice noi siamo abituati a pensare a noi stessi e basta perché siamo degli individualisti siamo persone che non ci concepiamo insieme agli altri invece gli ebrei sanno benissimo che un bene nella loro vita è un bene per la vita di tutta la comunità che hanno intorno e per te vale la stessa cosa cioè se tu ti troverai in una posizione che ti consentirà di fare più di quello che puoi fare adesso potrai fare più bene di quello che fai ora sarai sorella maggiore sorella maggiore per me fu una cosa molto bella vi dirò poi perché sorella maggiore di tante persone avrai la possibilità di insegnare ad altri ecco quindi lo devi fare io ero lì un po stordita e mi son presa questo parere perché tornava questo concetto che il mio lavoro poteva essere un servizio per il bene di tutti mio e di tutti e quindi compresa la mia famiglia per cui ho tentato il concorso ma non l'ho vinto non l'ho vinto quindi vi sottopongo a questo punto un altro punto fondamentale di giudizio per la mia vita che è l'obbedienza alle circostanze io mi trovavo quindi in un punto che vorrei che faceste anche voi mentalmente questo esercizio io avevo un marito quattro figli di cui l'ultimo qui presente aveva allora pochi mesi una laurea tre specializzazioni parlavo tre lingue avevo più di 50 pubblicazioni e avevo perso un concorso che poteva essere una svolta molto importante nella mia vita quindi cosa dovevo fare cosa voleva dire questa circostanza per me allora ho cominciato a guardarmi in giro a sentir pareri per esempio mi ricordo alla timbratura questo mio collega che mi dice e io se fossi in te tiro i remi in barca lavori a vivi a un chilometro dall'ospedale il mio tempo pigiama tuta da lavoro in sala urgenza era sette minuti esatti quando ero reperibile quindi cioè top di logistica no ecco e quindi lui dice tira i remi in barca non mi tornava non era non era veramente quello che mi attraeva quindi abbiamo cominciato un profondo brainstorming in famiglia e abbiamo chiesto ho chiesto a tanti a tante persone e la decisione finale a cui siamo arrivati tra mio marito e me è stata quella che avrei offerto quello che sapevo fare alle tre gastroenterologie che erano nel raggio fatto col compasso è di 40 80 chilometri intorno a piacenza perciò in un raggio raggiungibile con l'auto in giornata e ho offerto quello che sapevo fare in cambio di vantaggi in termini d'orario niente turni e reperibilità e di una posizione di carriera e quindi ho scelto l'offerta migliore e questo è stato ha iniziato degli anni per me veramente molto belli umanamente e professionalmente professionalmente perché mi ha consentito di fare esperienze di lavoro molto belle interessanti a livello nazionale anche internazionale e umanamente perché mi ha dato il tempo di seguire la mia famiglia nel modo più appropriato anche per esempio a un certo punto della vita di daniele chiesi di verticalizzare il part time e di stare a casa il mercoledì e daniele si ricorda benissimo i nostri mercoledì dove andavamo a sceglierci la focaccia migliore poi mangiavamo insieme i compiti eccetera quel mercoledì lì è venuto molto utile dopo qualche anno dopo perché si sono ammalati i miei suoceri e quindi li ho potuti seguire un po' di più quindi è stata una una serie di anni molto positivi che hanno poi esitato tra l'altro inaspettatamente nel fatto che nel 2014 vincessi il posto di primario nel reparto dove ero andata a lavorare quindi morale della favola di questo punto le circostanze sono una chiamata formidabile sono importantissime non può non si può non tenerne conto ma bisogna saperle leggere bisogna chiedere di saperle leggere no chiedendo quindi aiuto a chi ci avvicino nella fede e chiedendo con la preghiera tantissimo poi c'è un ultimo nota bene su questa domanda che che hai fatto tu a proposito delle priorità che ci tengo a sottolineare ne abbiamo già parlato prima tavola io ho avuto una certa educazione in famiglia e devo dire anche una certa fermezza di mio marito che ha aiutato la nostra famiglia a scampare da un errore molto comune che si fa quando si tenta di combinare il lavoro di lei e di lui che le priorità vanno salvate l'errore è quello di non salvare le priorità quindi non è che qualunque lavoro per lei o per lui va bene va bene quello che rispetta le priorità stabilite e le priorità stabilite tra famiglia e lavoro credo che tutti siamo d'accordo e se non lo siamo bisogna che lo diventiamo viene prima la famiglia del lavoro e quindi non è che come mi disse mi telefonò il mio amico dice ah sai lui insegnava una roba stranissima mi sembra filologia romanza non lo so ho vinto la cattedra a lisbona ah dico complimenti bellissimo importantissimo ma dico scusami ma mi sfugge una cosa tua moglie non lavora a ginevra sì sì e dico e la bambina chi la cura a milano ah no niente ci arrangiamo con i nonni e poi comunque viaggeremo molto orripilata cioè per me è una cosa orribile il mio amico collega brillantissimo brillantissimo che non trovava una carriera abbastanza soddisfacente qua in italia che mi dice guarda ho vinto un posto bellissimo a londra ah ma dai bella notizia quindi tua moglie e i tuoi figli vengono con te no no rimangono a roma due anni dopo famiglia sfasciata quindi tra lavoro e famiglia prima viene la famiglia il lavoro deve adattarsi dentro la famiglia per primo viene il marito questo è molto importante credo ve lo vendo come parere mio però forse anche gli psichiatri presenti in sala forse questa cosa la possono confermare con qualche teoria scientifica non lo so ma mi pare che dare una priorità al marito è sano e mantiene la famiglia in salute perché il capo famiglia esiste esiste seconda domanda della benedetta e di tutte voi credo che mi sono arrivate come sei stata davanti alle scelte alle fatiche ai sensi di colpa se ne hai avuti vi leggo due righe del mio diario del 1997 quindi avevo 38 anni e tra figli faccio tante fatiche vivo tra felata sono spesso tanto stanca e nessuno vede quello che faccio nessuno misura o prova a misurare i pesi che porto quindi come ero stanchissima 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 vivo tra felata ho questa immagine negli occhi finivo di lavorare correvo come una lepre giravo l'angolo infilavo la porta dell'asilo e trovavo mia figlia l'unica rimasta di tutto l'asilo per quello che suor sergio a vi guardo con un affetto infinito la trovavo lì con la suora che la faceva giocare perché era l'ultima bambina rimasta e quindi ci ho batticuore tra felata eccetera lo capisco benissimo però in questo devo dire che ci hanno sempre sostenuto ci siamo sostenuti prima di tutto tra mio marito e me chiedendoci ogni tanto anche se non siamo infallibili credo che proprio piccola parentesi i nostri vicini di casa secondo me nei primi anni di matrimonio pagavano il biglietto quando noi litigavamo cioè prendevano le seggie dicevano vieni vieni che stanno litigando perché cioè proprio aprivamo i fuochi d'artificio vabbè comunque dico quindi non senza fatiche non senza errori però ammetto che è veramente adesso più lo dico a posteriore di tutti questi anni di matrimonio è un privilegio avere un uomo vicino con cui poter fermarsi e dire o un attimo questa cosa come la viviamo no quindi il tra marito e moglie coi figli con gli amici con i miei fratelli con i consacrati che abbiamo avuto il grandissimo privilegio di avere come amici no sia sacerdoti che suore ecco diciamo che nella nostra casa ho sempre credo che abbiamo sempre considerato bellissimo avere sacerdoti seduti a tavola qualche volta anche suore che si muovono meno perché sono una grazia enorme enorme camisasca usa questa immagine bellissima dice i sacerdoti sono quelli che portano cibo in trincea nella trincea in cui le famiglie lottano ed è verissima questa questo scambio tra le vocazioni no di mutuo dove si si irrobustiscono entrambe le vocazioni no diventano più forti entrambe quindi questo con questo tipo di sostegno siamo andati avanti attraverso queste stanchezze questi dubbi questi sensi di colpa eccetera però con un grande però astenersi per di tempo allora chi chi chiama chi abbiamo sempre chiamato per di tempo la gente per cui la fatica è un'obiezione mi dispiace ma la fatica è una condizione è una condizione ineliminabile della vita dell'uomo della donna e se per quello anche dei bambini solo che l'adulto l'adulto è quello che la fatica la prende la accetta quindi come condizione ineliminabile e la lavora cioè cerca delle soluzioni intelligenti di delega per esempio di alcune fatiche no cerca le soluzioni tutte le soluzioni possibili e quindi tutte le donne se lo saranno sentito fare se non ve la siete ancora sentita fare arriverà la domanda famosa ma come fai a far tutto no la mia risposta è sempre stata molto semplice non faccio tutto faccio quello che è importante che faccia io il resto lo lascio fare a degli altri lo lascio fare a degli altri no e questo però implica un'organizzazione familiare vuol dire marito prima di tutto che ha imparato a cambiare i pannolini molto presto vomitava letteralmente non può non può cambiare i pannolini mi è noto è un fenomeno scientifico dimostrato che non può cambiare i pannolini però di fatto li ha chiamati perché quando facevo notte evidentemente me li cambia i bambini i figli figli sopra gli otto anni devono aiutare in casa i miei figli hanno sempre saputo che la prima comunione non solo era il più grande sacramento che stavano aspettando ma era l'ingresso nell'età lavorativa perché da quel punto in poi dovevano sparacchiare apparecchiare sparecchiare entravano nei turni quindi i figli poi metteteci tutto quello che volete colf babysitter asilo scuola tutto quello che volete no organizzazione e poi c'è l'orgoglio perché se siete oneste sto parlando alle donne soprattutto il più grande impedimento spesso a organizzarsi a farsi aiutare è l'orgoglio e no ma quello lo faccio io come stiro io le camicie non le stira nessuno chi se ne frega delle camicie c'è la piegolina pazienza no oppure ancora un altro esempio che a me ha toccato spessissimo mi chiamano per una relazione a un congresso che confligge profondissimamente con qualcosa di famiglia e lo devo fare il sacrificio di dire no dai ti mando qualcun altro oppure la relazione la faccio ma non sto alla cena di congresso che è tipicamente qualcosa dove vai per raccogliere gli onori no come sei stata brava public relation insomma quindi si fa quello che non confligge con la famiglia questo introduce un altro elemento che pian piano nella mia vita ho imparato a capire che è molto molto importante si chiama abnegazione quando ero una sposina giovane con i figli sempre in crescita eccetera piccoli tanti eccetera come ho sentito che siete in tanti a condividere e molto oberata anche dal lavoro c'era un lavoro che mi pesava più di tutti che era l'ultimo compito della domenica cioè dividere le montagne di panni da lavare io quando facevo quella cosa lì ero arrabbiata col mondo intero perché non mi ero fermata tutta la domenica e da lì a poche ore riniziava la settimana la prova per me che qualcosa è cambiato è che io adesso i panni li divido in pace e non sono più arrabbiata no perché i panni no è un mister ecco anche questo mistero scientifico i i mucchi dei panni sono sempre uguali non lo so non so perché è un miracolo un miracolo un miracolo vabbè o si lavano di più non lo so insomma comunque i mucchi poco 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 ti do una brutta notizia no è che secondo me pian piano negli anni in realtà il mio cuore deve essere cambiato no perché i milioni di cose e questo vi do una grande bella notizia i milioni di cose che già ora fate pian piano ti cambiano cioè quando tu e generalmente sono tutte le piccole cose di ogni giorno quando tu dai proprio tutto quello che hai anche quello che in quel momento lì proprio non lo non pensai di non avercelo più adesso vi faccio una citazione che suo sergio non potrà conoscere ma che certamente voi conoscete una citazione coltissima fiorella mannoia che dice e non saremo stanche neanche quando vi diremo ancora un altro sì adesso uomini non illuminatevi perché è riferito non solo a voi ma anche ai bambini o ai figli grandi che ti chiedono alle 10 di sera per favore mi risenti storia che domani mi interrogano no e tu in quel momento lì ti daresti un ferro da stiro in faccia po' di sentire storia no ecco vabbè quindi quei sì lì detti giorno dopo giorno cosa dopo cosa ti cambiano ti cambiano e creano la famiglia molto più di tanti discorsi no volete mettere dico le case diciamocelo le case sono belle quando sanno di cucina cucinata bene l'importanza del soffritto di cipolla che quando uno apre la porta diciamo meno male sta cucinando no ecco portantissimo secondo me sono 18 mila punti paradiso perché non ne avevamo voglia di mettere sul sugo per niente per niente no ecco il tacco alto un tacco alto messo al momento giusto come dice la mia amica costanza miriano no tacco alto una tavola apparecchiata bene tutte queste cose sono spazi della famiglia che devono essere sacro santati sacro santati così no perché dobbiamo avere questo tipo di custodia per la nostra famiglia sapiente intelligente creativa tutte le scarpe che ha sulla beba per me sono il vertice il vertice della creatività il vertice di solito purtroppo questo tipo di custodia non coincide con la nostra comodità c'è un alcune frasi test io non cucino mai che secondo me così non so a occhio non sono una teologa ma forse un peccato grave perché non bisogna dirle no terza domanda adesso che ti puoi guardare indietro cosa dici delle scelte fatte i tuoi figli cosa hanno detto nel tempo daniele stai fermo allora vi illustro una cosa che ho scoperto da qualche anno e che mi ha riempito il quale ha proprio fatto fare un respirone a pieni polmoni veramente c'è tutto un settore di ricerca dedicato all'equilibrio tra lavoro e famiglia no work life balance leadership and family eccetera eccetera e su questo filone di ricerca che data da decenni indietro c'è stata una varia una teoria che ha dominato e che se ve la chiedo a tutti voi me la dite perché è la più ovvia del mondo no perché è logico che ricoprire ruoli multipli cioè far la mamma lavorare magari insegnare catechismo allenare una squadra di calcetto eccetera ricoprire ruoli multipli è logico che contiene minacce perché tu ti stanchi vai in conflitto con la moglie vai in stress vai in burnout eccetera no però se ci pensate contiene anche molte opportunità per esempio un invecchiamento sano una soddisfazione persona un invecchiamento sano apro parentesi quando io visito una novantenne che mi scende dal lettino con un balzo e è bella pronta alle domande che gli faccio io gli chiedo sempre scusi lei che lavoro faceva e la risposta è la sarta ve lo dico le sarte sono in pole position per invecchiare bene perché perché il lavoro nobilità il lavoro fa invecchiare bene logico tiene attivi tiene attivo alla mente no normale quindi questo è abbastanza logico però diciamo che c'è una teoria che ha dominato fino a circa dieci anni fa che è la famosa teoria della torta per cui tutte le energie della benedetta equivalgono a una torta se tu togli una fetta della torta cosa faccio sto impoverendo quello che benedetta riesce a fare in altre attività no se tolgo una fetta di energia per lavorare piuttosto che per curare i bambini e tolgo dell'energia al resto no questa è stata la teoria prevalente ma se ce l'avessero chiesto a tutti noi che non ci siamo mai dedicati veniva facile da dire no ecco invece c'è una bella grandissima notizia che me l'ha data questo è lo scoop per me è stato del secolo me l'ha data mia figlia perché giustamente dio c'è e vede benissimo a una madre abbastanza indaffarata come sono stata io doveva proprio capitare una figlia che si è occupata lei si occupa per di ricerca di bilanciamento famiglia lavoro lei fa questo in bocconi e quindi lei mi ha fatto scoprire che esiste una montagna alta così di letteratura che dimostra che questa teoria non va bene che esiste una teoria molto più convincente molto più accreditata oggi a quella prevalente per cui le energie che una persona impiega in un campo le può benissimo condividere e anche aumentare se le usa se le trasferisce in altri campi se le distribuisce su altri campi e se ci pensate vi farò qualche esempio è molto logico molto logico per cui questo tema dell'arricchimento che nasce da ricoprire ruoli multipli diventa interessante soprattutto dal punto di vista di capire quali sono allora i modi in cui io mi posso arricchire ricoprendo ruoli multipli quali sono i trucchi e le risorse per allora esistono sono andata a studiare subito quando appena mia figlia Laura me l'ha detto naturalmente mi sono molto appassionata perché dicono ma io intuivo che doveva esserci una spiegazione come le sarte appunto no intuivo che doveva esserci una spiegazione di questo tipo risorse prima di tutto psicologiche no se tu lavori in un campo che ti appaga come allattare giuditta di dieci giorni piuttosto che visitare un paziente piuttosto che realizzare un bel visual come farà domani benedetta no questo tipo di applicazione delle tue energie ti dà molta gioia soddisfazione accresce la tua autostima no e quindi questo deposito di confidenza e di autostima che cresce in un campo delle tue attività naturalmente poi non è che ti lascia lì in quel campo lì ti accompagna quando tu affronti altre situazioni difficili quando io mi sono trovata a affrontare nel giro di ore l'organizzazione di un reparto covid il 22 di gennaio del 2020 di febbraio del 2020 tutte le mie capacità precedentemente accumulate sono state messe alla prova e per fortuna che c'erano le ho trasferite lì la capacità di realizzare in tempi rapidi a di a dispetto di preoccupazioni enormi no sono tutte cose che io avevo preso non da facendo un corso sul covid facendo vivendo prima in altri in altri campi un'altra risorsa naturalmente molto importante perché accada questo arricchimento da multipli ruoli è di avere il supporto adeguato perché se tu vai a roma ci vai a piedi mi dispiace ma arrivi esausto se vai a roma col mezzo adatto ci arrivi nelle condizioni in cui ci devi arrivare no quindi il supporto adeguato l'abbiamo l'ho già detto prima in tutti i modi devi farti aiutare la terza cosa molto importante appunto l'opportunità di apprendere da varie situazioni come si affrontano le difficoltà in un campo lo puoi avere imparato in un altro e questa è una cosa che spesso viene trascurato tu pensi devo imparare l'organizzazione vado a fare un master di organizzazione oppure vado a fare un master di leadership invece accade e lo diceva benissimo lei prima cena che se sai mettere a letto un bambino di cinque anni e dici l'ora di spegnere le luci sono le otto le otte e trenta e sono spente punto e basta eserciti una cosa che è tipica dell'essere adulto che dovrebbe essere tipica che è la fermezza e da lì puoi dirigere un consiglio di amministrazione mi spiace ti do una notizia non lo sai ancora ma tutte queste capacità che stai accumulando nella maternità qualcuno le utilizzerà in altri campi vedrai e sarà così no l'altra è anche un esempio molto tipico scusate non so se voi tra voi uomini c'è qualcuno che allena la squadra di calcetto cioè se sai gestire una squadretta di bambini e i genitori di quei bambini e cioè impari delle lezioni di leadership che neanche un master alla bocconi ti insegna la stessa cosa quindi l'opportunità di apprendere da vari campi e di trasporti di portarteli con te come una ricchezza tua personale che applicherai dovunque tu ti trovi quindi morale io sono molto felice di avere fatto le mie fatiche adesso sono molto felice lo dicono sono felice di aver ricoperto ruoli multipli ma sapete cosa considero come mio successo un avverbio un avverbio ciò che mi rende più felice guardando all'indietro ora è sicuramente la consapevolezza di tutta la montagna di lavoro sto parlando sia di famiglia che fuori famiglia che sono o che ho potuto fare che ho avuto il dono di fare ma è l'avverbio intanto che stava in piedi la mia famiglia intanto che rimanevo con un uomo per tutta la vita con il mio primo amore tra l'altro intanto che crescevano i miei figli intanto che nascevano i primi nipoti no ecco quindi come ha confortato molto me vi leggo la lettera che mia figlia laura mi ha scritto quando è diventata mamma per la prima volta e quindi rendendo nonna me la figlia si chiama claudia la prima nipota è da un po che penso di scriverti per ringraziarti ora riesco ad apprezzare davvero con una marcia in più tutto quello che hai fatto per me per noi figli guardo alle cose che faccio e le faccio da soli due mesi guardo a quanto mi costa annullare tante cose di me per dare tempo e attenzione alla claudia e intuisco intuisco solo perché cosa sono 29 anni rispetto a due mesi quante volte lo avrai fatto tu per noi non voglio togliere nulla al papà so quanto sia stato e sia fondamentalissimo anche lui nel crescerci ma sto percependo cosa è una madre cosa fa una madre quale è il suo ruolo unico unicissimo e così ti ringrazio infinitamente di averci cresciuti così prima di tutto di averci voluti accettati e desiderati insieme al papà e poi di averci cresciuti di essere stata dietro a ogni nostro bisogno di averci dato tutto quando noi non sapevamo neanche dire grazie è solo una mail questa lo so ma ci tenevo a farti sapere che sto intuendo mai come prima e così non potevo non dirti grazie di tutta la fatica che hai fatto per noi tu dici sempre che siamo una gioia per te e lo credo è quello che dico anch'io della claudietta ma questo non toglie nulla alla fatica dell'istante in cui devi lasciare tutto e donarti dopo 29 anni ti ringrazio di ogni pannolino che mi hai cambiato di ogni vomitino che hai asciugato di ogni bagnetto che mi hai fatto di ogni volta che mi hai portato fuori quando ti saresti sparata all'idea di ogni pianto consolato e di ogni pianto sopportato di ogni canzone cantata e di ogni sorriso perché a volte di sorridere proprio non se ne ha voglia ti ringrazio anche di tutto quello che è venuto dopo forse anche più faticoso sotto certi aspetti ma mi premeva davvero ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me quando non facevo altro che mangiare e dormire e dopo tutto questo che hai fatto per me non posso non dirvi un grazie gigantesco per i miei fratelli grazie di non esservi fermati a me questo dimostra ancora di più il bene che mi avete voluto non solo perché è una gioia averli ma perché sono la prova che la fatica non ha avuto la meglio sono la prova che io non sono stata uno sbaglio o una fatica troppo grande ma che anzi come dici tu siamo la vostra gioia sono la prova che donarsi vale la pena e non solo una volta ma ben quattro vi faccio notare che in questa lettera non breve non parla mai neanche in una parola del fatto che io ho anche lavorato quindi credo che questo vi conforti su quello che capiscono i vostri figli ultima domanda nel tuo lavoro è più evidente una vocazione una chiamata a costruire per tutti pensi che ciò che ha mosso te possa valere per tutti allora c'è una serie di equivoci secondo me quando si parla di lavoro ad esempio il lavoro è solo quello che si fa fuori casa quando io faccio l'anamnesi cioè raccolgo la storia clinica delle casalinghe dico signora lei che lavoro fa ah io non faccio niente ma scusi ma come non fa niente in casa si lavora e tanto no quindi c'è una percezione perfino della diretta interessata che il lavoro fatto in casa non conti non è vero il lavoro è solo quello pagato ci sono lavori più o meno importanti secondo me no madre maria emmanuel che è la badessa del monastero benedettino di piacenza di cui vi parlavo prima ha fatto un incontro dedicato al lavoro e alla preghiera e dice questa cosa nel prologo della regola san benedetto dice il signore cerca il suo operaio tra la folla perché san benedetto scrive operaio e non servo o uomo o discepolo perché vuole intendere che l'uomo partecipa all'opera della creazione e della salvezza e questo dà al lavoro una dignità grandissima vuol dire che il nostro lavoro che sia tremendamente in vista oppure non visto da nessuno qualunque lavoro rientra nell'opera redentrice di dio ciò che fa la differenza è per chi lavoro domanda che facevi tu prima per chi lavoro e come lavoro lavoro per il signore o solo per me quindi la nostra vita vissuta come una vocazione i nostri sì a questa vocazione a questa chiamata che avviene attraverso lo specifico lavoro e le specifiche circostanze a cui siamo chiamati rendono il lavoro che facciamo qualunque esso sia un grande valore quindi per spiegarmi un po' meglio per aiutarmi a spiegare meglio cosa mi è sempre stato chiaro tutte queste diciture sul lavoro non mi tornavano non mi hanno mai appagato ma negli anni man mano è diventato più chiaro però chiamo questa testimonianza che per me è molto bella molto commovente cosa ho sempre fatto io che è bellissimo ascoltare le storie delle persone questo è uno dei privilegi di fare il medico cioè non solo la gente desidera raccontarti la sua storia non solo è un nostro dovere raccogliere una storia la più precisa possibile ma è anche una grande un grandissimo privilegio perché ascolti tante storie che insegnano tanto no e quando ero una dottoresina giovane appunto col tema e mamma mia la mia famiglia mamma mia il lavoro come farò mi piaceva tantissimo ascoltare questa generazione di donne che oramai è scomparsa che aveva quindi 80 e più anni negli anni 80 e chiedere appunto come vivevano loro quando erano giovani sposi allora vi presento Ines che evidentemente mi aveva così tanto colpito che me la sono riportata nel mio diario del 92 Ines ha 85 anni occhi celesti piccoli in fondo alle occhiaie e un mare di rughe respira male ma la voce allegra e brillante ha avuto 12 figli e due sono morti piccini domanda a chi lasciava i bimbi quando andava a lavorare a nessuno i più grandi curavano i più piccoli a che ora si alzava al mattino Ines alle 4 altrimenti alle 3 quando dovevo lavare i panni accendevo il fuocone nell'aia perché per chi non lo sapesse bisognava far bollire il pentolone nell'aia per lavare i panni e quando lavavo tutto e quando gli altri si alzavano i panni erano già tutti stesi sul filo e a che ora andava a dormire la sera Ines quando potevo quando avevo finito spesso non andavo neanche a letto perché c'era tanto da fare e non si lamentava con il marito di così tanta fatica no per me era normale il lavoro normale quindi a meno che si fosse baronesse da che mondo e monda si lavora per vivere per sostentare la famiglia e le donne hanno sempre dato un contributo enorme enorme differenza tra noi donne del 2000 e Ines e le donne che hanno vissuto come lei è che Ines lavorava 16 18 ore al giorno e di tutti i giorni 365 giorni all'anno non è che aveva le ferie no e che il suo lavoro non era pagato anche se naturalmente aveva un enorme valore economico che nessuno notava al suo lavoro aveva il tempo di seguire i suoi figli no assolutamente no se non nella forma più importante cioè quella di esserci e di vivere tutte le sue fatiche davanti a dio istante per istante quindi quando oggi parliamo di lavoro fuori casa lavoro in casa parliamo di cose che sono ma anche difficilissimamente assomigliano a quello che le donne di 160 80 anni fa hanno vissuto proprio non assumito quasi per niente una notazione mia personale sono aperta a qualunque contraddizione il lavoro è sempre un privilegio sempre è una fonte di grande ricchezza della persona in tutti i sensi ci fa uscire da noi stessi prima di tutto ci insegna l'abnegazione ci insegna tra le altre cose il distacco dai figli scusatemi ma la vostra generazione di mamme naturalmente non sto parlando di voi che avete avuto la grazia di una certa educazione ma nel mondo vi accorcerete benissimo c'è un livello di apprezzione e di livello di controllo sui figli che è pazzesco cioè tu devi fare il protocollo di chioto per avere un bambino a casa fare i compiti ci mi porti l'amichetto a fare i compiti insieme protocollo di chioto ci sediamo e ne parliamo tra tre settimane quindi invece questa verginità questo passo all'indietro che diceva Enzo Piccinini che diceva che ne sarà di questi bambini il chiedersi di fronte ai nostri figli che ne sarà di loro vuol dire avere uno sguardo distaccato non sono miei il lavoro insegna facciamo un paragone tra Ines e noi migliora le capacità di relazione interpersonale per forza se non sei proprio impari man mano man mano queste famose soft skills nel lavoro le deve imparare ci insegna a saper riconoscere i doni degli altri non lo so farei io ma magari tu lo sai fare quindi lo lascio volentieri fare a te e porta contributo economico alla famiglia e questo scusatemi alla sua importanza perché delle volte vedo delle famiglie dove il marito porta tutto il peso lui e non sempre anche questo economicamente parlando può essere giusto e sano nel tempo ultima cosa che vorrei dirvi e questa è tanto non detta e non capita da noi donne per prime il lavoro è un bene per il mondo e qui ci siamo tutti ma qualcosa che dimentichiamo spessissimo prima di tutto noi donne è che c'è un ruolo speciale delle donne nel mondo del lavoro e qui non sto parlando per niente di un riconoscimento sindacale o di un riconoscimento di carriera della donna no c'è quello che c'è bisogno è il bene di tutti perché l'essenza della donna dell'essere femminile è di avere dei doni speciali da portare al mondo la sua sensibilità la sto parlando di donna lavorata di donna che lavora su di sé è un essere che ha un tipo di sensibilità un tipo di intelligenza entra in una stanza e vede benissimo che quello seduto in settima fila non sta bene non è di buon umore ha un problema no c'è un tipo di modalità di relazioni interpersonali più rispettosa un ego dicevamo prima tavola che nasce più piccolo dell'ego maschile no tutti questi doni sono speciali se vi volete fare un regalo leggete la mulieris dignitate ma la lettera di giovanni paolo secondo alle donne dove lui dice grazie donne grazie donna amica madre figlia sorella moglie tutto quello della donna e sottolineo in particolare i ruoli che dicono qualcosa sull'intangibilità della donna amica madre sorella se tu tratti una donna così e te la tieni così sacerdote che sia uomo che sia tu avrai il massimo di bene da quel rapporto e una donna che entra così nel mondo del lavoro da solo doni guardate che la mia esperienza normale è che in realtà invece accade il contrario gli uomini soprattutto se c'è da prendere una decisione temono moltissimo di dover condividere quella decisione con una donna perché c'è come una specie di diffidenza di nemicizia e invece anche nel prendere decisioni una donna può essere tanto di dono tanto importante quindi ciò che la donna è come bene per il mondo non è ancora compreso e prima di tutto da noi e non sto affermando una superiorità o un'inferiorità sto dicendo semplicemente che abbiamo ancora tanto da capire sulla bellezza e la grandezza della complementarietà tra uomo e donna ho detto tutto quello che forse dovevo dire domande no io grazie cioè sei un regalo gigante in un momento in cui ne avevo molto bisogno sì c'è devo dire che riguardare il lavoro e la fatica così è una bella prospettiva cioè rimette in moto quindi grazie io avrei 3.000 domande però mi piacerebbe anche che venissero un po' fuori non so se qualcuno ne ha voglia c'è il microfono qua penso questa cosa che forse qui c'è la mia amica Manu che ha 20 anni meno di me e guardo voi che ne avrete probabilmente 30 e più o meno di me credo che il valore che Nanni e io possiamo darvi stasera è quello di darvi conferma di cose che voi in questo momento state solo magari sperando sì sì è tutto vero è tutto vero ed è tutto bello cioè c'è un entusiasmo che cresce negli anni quello che c'era stato un periodo nel movimento si diceva la vita e la realizzazione di quello che adesso non mi ricordo la frase esatta comunque vi garantiamo che è così investendo nel posto giusto tutto torna ai più grandi di quello che avresti mai sperato quindi volevo chiedere in merito al discorso dei sensi di colpa visto che ci siamo in mezzo noi quindi a volte certe cose ancora non le capiamo non le percepiamo i frutti magari che stanno crescendo che seminiamo non sono così chiari e quindi tante domande lo stomaco che si contorce sei a lavorare dici dovrei essere da un'altra parte a me è capitato di lasciare la figlia in palestra e ti chiamano chi la viene a prendere cioè non lo so nel senso proprio nella quotidianità delle cose esci da lavorare dici non ho scongelato la cena adesso cosa faccio stasera nel senso come si possono affrontare anche questi sensi di colpa che vorrei essere qui ma dovrei essere là a lavorare magari dire dei no o fare un passo indietro perché ad esempio io vivo una realtà diversa non in ambito medico dove comunque lo spendere il tempo per il lavoro hai meno la percezione che faccia bene a qualcuno perché lo fai per il reddito e il profitto di un'azienda e quindi come dire forse il senso di colpa è anche ancora più forte perché non sei lì a confortare o a fare del bene materialmente a una famiglia o a un ammalato quindi scegli proprio tra stare davanti a un computer a fare dei calcoli a calcolare dei numeri per un'azienda piuttosto che magari dedicare del tempo alla famiglia quindi forse in questo caso il senso di colpa è ancora più forse si manifesta magari ancora più forte ecco ma intanto devo dirvi che per me è stato bellissimo preparare questo incontro come avete visto ho dovuto scrivere perché volevo stare nei tempi che mi avete dato e volevo essere certa di dirvi scegliendo ecco quindi mi sono dovuta rifare anch'io un sacco di domande e dover riconsiderare tante cose e una cosa che veramente mi veniva in mente siccome eravamo in montagna questi giorni anche è stata quella che è vero come dici tu cioè siete nel periodo in cui Giussani diceva grazie agli amici che ci conducono come i fari nella nebbia e voi siete nel periodo della nebbia dove veramente avete bisogno quindi di avere dei punti luminosi ogni tanto che vi portano fuori noi siamo in un'epoca della vita in cui finalmente sali sopra sei su un po' più in alto in montagna vedi la nebbia in basso te la ricordi ma fortunatamente hai capito che la strada era tutta quella lì da percorrere davvero e che è stato molto bene percorrerla è stato molto bene seguire chi ci dava i punti luminosi di riferimento tutto quello che hai detto lo sottoscrivo e lo moltiplico per 400.000 cioè sarebbe carino fare un elenco di tutte le cose mancate la cena non scongelata hai cambiato le mutandine al bambino quando l'hai portato all'osia sì sì le ho cambiate due paia ne aveva sul bambino cambiate le aveva cammesse e gliela aveva messe quindi sarebbe carino farle l'elenco lui potrebbe farle mie vuoi farne una mia? una però quindi dico le sottoscrivo in pieno ma non abbiatene paura non dovete averne paura è normale è normale voi dovete solo garantirvi di avere i punti luminosi di riferimento tanta preghiera di giorno e di notte io adesso farò una cosa che non so neanche se posso dire ma non prendo sonniferi ma non dormo bene tante volte mi sveglio di notte prego cioè c'è sempre un tempo per pregare e di preghiera c'è sempre bisogno noi credo che quando arriveremo in paradiso capire cioè staremo lì a dire ma non avevo capito niente non avevo capito niente di tutto quello che ho vissuto vedremo un sacco di cose noi nella situazione in cui sei tu adesso vediamo un milionesimo della situazione quindi di preghiera c'è sempre tanto bisogno per quel motivo lì perciò i sensi di colpa li ho vissuti se ti devo dire francamente non erano molto dominanti li ho vissuti me li ricordo molto bene questo senso di dire porca miseria cioè di inadeguatezza eccetera però non non mi sono mai confessata di non aver scongelato la cena perché non la consideravo suora sto dicendo un'eresia no è più grave altro no voglio dire non è quella quella cosa che in una barca troppo magari ecco se c'è una settimana in cui la cena non è stata scongelata è il momento di fermarsi col marito e di fare due ragionamenti cioè cos'è che mi sta sfuggendo perché grande colonna della vita e che dobbiamo riconoscere ai nostri uomini è che loro semplificano la nostra vita loro via questa cosa via no cioè noi complichiamo e invece loro semplificano e possono aiutare tanto no per cui sentiteveli addosso il meno possibile perché Santa Teresa Davila diceva che l'immaginazione è la pazza di casa e non la puoi dominare bisogna lasciarla andare eccetera forse anche i sensi di colpa sono un po' la pazza di casa va bene dai cioè ci sta che ogni tanto magari prendiamo come eventi sentinella quando si accumulano un po' tante sviste ecco magari è il momento di riposarci di farci aiutare di più no o di rivedere la nostra organizzazione vi faccio l'ultimo esempio su questo tema è nato un bambino da poco ha questa coppia che conosco bene primo figlio tanto desiderato hanno 40 anni tutte e due lavorano tutti e due lavori impegnativi lei ha qualche problema di salute non piccolo eccetera eccetera uguale ho fatto come uno più tre più sette uguale ti devi fare aiutare a gestire questo bambino non sarà mai facile per voi no cosa stanno facendo il bambino oramai a quattro mesi hanno già auditato credo sette babysitter e nessuno va bene è sbagliatissimo cioè ti devi far aiutare devi trovare il modo di essere aiutato dall'altro abitano al nord sono del sud non hanno neanche un parente vicino cioè è proprio un modo di non affrontare correttamente il problema più cresce la famiglia più deve crescere l'organizzazione è un tema per i vostri bei giovani cervelli mi intimido subito se si alza un uomo mi intimido no chiedo una cosa perché volevo capire nella nostra famiglia io e mia moglie non ha il lavoro non è non ha mai preso una come dire una predominanza nel senso da dire abbiamo grandi carriere abbiamo due lavori molto semplici che ci permettono di essere molto a casa abbastanza soprattutto me cioè più ancora che lei è la maestra d'asilo io faccio un lavoro che mi porta via solo la mattina pomeriggio e la sera sono libero e ogni tanto questa cosa mi pesa perché io sono passato io faccio il cuoco sono passato da lavorare nei ristoranti in cui non avevo vita cioè nel senso che lavoravo ho fatto anni dove veramente non avevo un minuto a casa cioè venivo a casa entravo dormivo e ripartivo per lavorare ad adesso dove mi trovo un sacco di tempo libero che abbiamo quattro figli per cui fino a qualche anno fa abbiamo detto è stata la scelta è la scelta più giusta nel senso che posso ci aiutiamo per la gestione della vita familiare ora ogni tanto mi viene proprio da dire invece boh forse sto invece sto sprecando cioè i figli stanno crescendo io sto sprecando del mio tempo ormai mi sono adagiato mi sono trovato quanti anni hanno i vostri figli? 15 13 11 e 7 ormai stanno crescendo la più grande ormai fa la seconda liceo quindi e dico boh cioè va bene per la famiglia abbiamo io ho rinunciato al mio lavoro un po' cioè nel senso che l'ho fatto in un momento in cui c'era bisogno che rimanessi più a casa e l'ho fatto anche contento perché ho scoperto una bellezza di vita oltre al lavoro che prima non conoscevo non essendoci mai e per oggi mi guardo mi guardo intorno e dico va forse io potrei fare potrei fare altro potrei fare di più no? potrei spendermi più a volte vedo che ho molto tempo e questa cosa mi dispiace nel senso che mi ho sempre fatto tanto prima adesso mi trovo che invece appunto un po' anche perché i figli stanno crescendo sono abbastanza autonomi non no? e allora volevo capire non so se si capisce un po' la mia preoccupazione cioè a volte mi sembra di essere a casa non dico inutile perché è età però in nome del bene della famiglia ormai essermi un po' adagiato no? vabbè aspetto va tutto bene no? ci siamo siamo in casa siamo no? il lavoro ce l'abbiamo è tranquillo da questo punto di vista mi manca qualcosa cioè lo vivo con una certa sofferenza anche a questione del lavoro quindi volevo capire un po' un consiglio vedete come cambiano le domande nelle diverse epoche della vita e della vita dei figli no? è una domanda giustissima che secondo me implica due cose una è la virtù della lungimiranza e vale moltissimo per le donne che si chiedono che cosa sarà del loro lavoro intanto che hanno i primi uno due tre figli tutti piccolini eccetera e vale per questo papà che giustamente invece ha già un po' scollinato e comincia ad entrare nell'epoca in cui i figli lascerebbero più tempo quando vengono da me le donne giovani e dicono ma cosa sarà di me cosa farò di me ho adesso una gravidanza magari il mio lavoro il mio posto eccetera io dico sempre ma guarda più in là cioè tu dicevamo prima a tavola tu stai accumulando delle virtù di organizzazione di equilibrio di capacità organizzativa che non stai nemmeno immaginando e che faranno di te una donna molto più abile al lavoro guardate che quando viene qualcuno a chiedermi di venire a lavorare con me per esempio una cosa che io chiedo sempre è la situazione esistenziale perché io devo capire se ha una gomma per terra due o tutte e quattro come è come è messo nella vita e le donne io ho nel mio reparto ci sono una quarantina di persone di cui solo sei uomini tutte le altre sono donne quindi il rischio gravidanza è sempre altissimo ma io al contrario dei miei colleghi uomini non ho paura di questo perché so che una donna che vive la gravidanza e la crescita di un figlio bene sarà una donna molto più equilibrata in gamba capace e veloce nell'organizzare di una donna che non ha ancora avuto figli poi per carità ci sono eccezioni a tutto questo ma in generale i figli sia da parte del padre che della madre i figli aggiungono capacità sempre la lungimiranza che devi avere è capire che la tua situazione attuale non durerà sempre quindi se tu ti devi adattare ad un part time vi ho fatto anche l'esempio mio personale a chiedere un part time che è cosa molto buona durante un certo periodo dopo devi sapere che ci sarà un punto in cui quella situazione finisce finisce e tu ricominci hai tenuto il tuo posto di lavoro ma ti troverai a poter fare di più e intanto avrai accumulato delle capacità e un equilibrio una gioia dall'avere la tua famiglia che farà di te un uomo o una donna molto che è un piacere avere al lavoro io vi dico durante il periodo covid in questa squadra di 40 persone chi è uscito meglio cioè chi non ha sbarellato è naturalmente qualcuno che aveva a casa una famiglia che poteva trovare un appoggio quando tornava a casa pare una cosa alla paliziana non lo è evidentemente è stata una caltona sole enorme quindi lungimiranza e seconda cosa molto importante noi tendiamo a vivere una fede un po' astratta e pensiamo che il lavoro e queste domande che hai tu o un'altra o due che uscivano a tavola il che cosa devo fare di me è una preghiera deve essere una preghiera di fronte a chi la dici questa cosa che cosa vuoi fare di me ora che ho cresciuto i figli giustamente ho trovato il modo di equilibrare le cose in questo periodo ora che cosa vuoi fare di me è una preghiera e deve diventarlo coscientemente ti prego Dio fammi capire dammi l'incontro la grazia le persone da conoscere che mi facciano capire quale sarà la mia strada da ora in avanti e questo accade sempre perché Dio risponde sempre vale sempre allora io mi chiamo Benedetta anche ho quattro figli come tutti qua in sala probabilmente è un'epidemia è un raduno di famiglia numero e intanto anche ti ringrazio tanto allora la mia è una domanda diciamo che anche un po' una sofferenza che a volte mi trovo addosso io lavoro faccio un lavoro molto meno faccio la maestra quindi apparentemente dovrei avere più tempo in realtà tante volte io mi trovo in questa situazione dove il sentimento che mi sento addosso è quello di non essere mai abbastanza se do il massimo al lavoro che mi piace tantissimo che sento che realizza una parte di me e poi ci sono altre cose dove dove non va bene se allora dicono no no devo riguardare devo stare meglio con i figli perché uno si perde da uno si perde di qua poi non ci salto fuori dall'altra parte se dico va bene oggi faccio questo pazienza non pulirò la casa poi qualcuno dice mamma io ho un calzino giallo e uno nero io no no eccetera eccetera no quindi io sono ancora nella teoria della torta credo cioè me la sono quando hai parlato della torta dico vacca io mi penso così e quindi niente ti volevo chiedere se a te è capitato e che cosa vuol dire essere sufficienti se è giusto se è giusto avere questa pretesa nei propri confronti perché tanti mi hanno risposto deve avere meno pretese nei confronti di te stessa ma anche questa risposta un po' mi ferisce perché in realtà quello che desidero è esserci pienamente no in tutto non so se è chiaro ecco grazie sì è chiarissimo ed è una una sensazione molto comune delle giornate di insoddisfazione che ci accompagna in tante cose a forse a volte può essere anche vera perché naturalmente non siamo in nessun modo perfetti no e quindi siamo sicuramente insufficienti per cui c'è una parte di umiltà in questa tua considerazione che che va anche bene nel senso dobbiamo essere consapevoli che non risolviamo tutti i problemi dei nostri figli che non siamo le mogli perfette che non siamo le lavoratrici perfette questo ci sta ma c'è anche un lato appunto sia di giovinezza sia di punti di riferimento che sono molto importanti che ti restituiscano l'immagine corretta di te perché tu non ti leggi da sola cioè tu non sei capace di vedere quali doti stai usando come le usi come tratti le persone con cui lavori eccetera e per esempio in questo tante volte fa la differenza chi lavora con te soprattutto chi è il tuo superiore perché la cosa più auspicabile che può capitare è naturalmente che ci sia un superiore anche un po' mentore che è capace di vedere le tue qualità e te le restituisca e ti dica sei stata molto brava a fare quella cosa ho molto apprezzato che ti prego questa cosa fai così cioè qualcuno che sia un mentore non solo un superiore non è facile in mancanza di un mentore al lavoro un marito che in questo ti conforti ed è un altro lato molto importante e in mancanza di una direzione spirituale tutto questo ti fa fare molta fatica perché naturalmente una parte di quello che tu registri come mancanza è vera ed è un crescere nel mondo del lavoro questa cosa oggi non l'ho fatta tanto bene adesso mi vado a rivedere questa cosa e domani cercherò di farla meglio ma anche ripeto un senso di essere dilaniati tra tante cose quando si hanno i bambini appunto io mi ricordo che timbravo regolarmente in ritardo di dieci minuti quando avevo i figli molto piccoli perché erano da portare all'asilo e lui a volte li portava lui a volte li portavo io se li portavo io arrivavo in ritardo me ne vergognavo perché era così ma dall'altra parte mi dicevo ma come posso fare diversamente non ce la facevo quindi capisco il sentimento ma ci vuole qualcuno che ti aiuti e ti accompagni sulla direzione spirituale vorrei aggiungere una cosa importante dentro il movimento di comunione e liberazione noi siamo sempre stati abituati ad avere delle figure di riferimento che fosse il responsabile o che fosse un sacerdote a volte una suora di riferimento e andava un po' di moda almeno ai miei tempi di dire ho parlato con il respo no? cioè io sono meglio perché io ho parlato non è così cioè si va dalla persona di riferimento che puoi trovarti in un sacerdote della parrocchia in una suora che ti aiuta in questo perché chi aiuta a fare discernimento e ti segue e ti guida a Dio è una figura importantissima nella vita importantissima essenziale perché noi non siamo capaci da soli e tutti insomma le persone che vogliono lavorare davvero su di sé il movimento ripeto che in questo è sempre stata una grande grazia perché per chi voleva usarle le figure c'erano vi ho raccontato di Piccinini ad esempio che era molto abituato ad aiutare le persone perché sapeva far discernimento sapeva scegliere se tagliare il filo rosso o il filo blu sapeva interpretare la persona sapeva accompagnare sartorialmente come diceva Benedetta quella persona in quella situazione ma queste persone vanno cercate non sono superflue non sono superflue cioè è un punto di riferimento importantissimo io ti ringrazio ancora ringrazio voi ringrazio la scuola tantissimo di accoglierci e di darci questa opportunità e niente vi saluto e vi ricordo che su raccogliamo le offerte per poter continuare con la nostra avventura della Casa del Melograno abbiamo cominciato a costruire un po' i social così potete stare aggiornati su i prossimi incontri che organizzeremo ancora non abbiamo altre date ma non ci fermiamo chi ci ferma? dai buonanotte grazie 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 grazie